Con il commissario Francesco Tarricone del Comune di Bacola. Il Comune di Bacola, a differenza di altri comuni, ha aderito al piano delle 10.000 assunzioni della Regione Campania. Insomma, un momento importante anche se il Comune è in default, però il Comune è in vita. Questo è messaggio importante. Non solo è in vita, ma il Comune deve necessariamente trovare queste forme, come per esempio il bando che lei citava della Regione, per cercare di arricchire l'organico che è deficitario del Comune e che non si riesce attraverso le normali forme di reclutamento che prevedono normalmente i concorsi o comunque delle procedure che poi portano ad avere personale da ritribuire. Noi stiamo cercando, non solo attraverso il bando a cui abbiamo aderito, che però voglio anche ricordare che queste eventuali assunzioni non avverranno subito perché in sostanza si tratta di far parte di una graduatoria di comuni che verranno ammessi per poi una sorta di creazione di una lista da cui attingere personale da poter poi inserire nel mondo lavorativo. Ma abbiamo anche aderito per esempio a un'iniziativa del Ministero della Difesa che di recente ha consentito ai comuni di poter attingere a una sorta di riserva di personale del Ministero della Difesa che sono in ausidiaria, cioè significa che praticamente prima di andare in pensione sono collocati in una sorta di disponibilità di un certo numero di anni, pagati dal Ministero della Difesa quindi non a carico dei fondi del bilancio comunale ma che il Comune può assolutamente reclutare e quindi stiamo proprio in questi giorni avendo colloqui con numerosi di queste figure individuate in un elenco che il Ministero ci ha fatto avere per cercare anche qui di avere un aiuto lavorativo. Grazie a lei.